Abbiamo affrontato un avversario molto molto forte, ben disposto in campo con un'ottima difesa. Alla fine con uno spunto, una giocata individuale di Salvato su Spina ci ha consentito di portare a casa i tre punti. Sì, è stata una gara molto bella, al di là del risultato 1-0, però le squadre sono mosse bene, loro erano molto organizzati. Noi abbiamo cercato di fare la nostra gara, però alla fine del girone d'andata, ritrovarsi secondo per gli obiettivi prefissati, io sono contento e penso anche alla società. Cosa è scattato dopo la sconfitta con il Saviano in casa Solofra? Diciamo che non è scattato nulla, o meglio, ci siamo rimboccati le maniche perché abbiamo visto che con il Saviano c'è stata una grossa prestazione e c'è mancato il risultato. Abbiamo continuato a fare prestazioni e alla fine quando giochi e hai un'idea i risultati ti ripagano sempre. Secondo Mr. Fiume 2020, ricco di emozioni che attende questo campionato? Sì, penso che il giorno di ritorno sarà molto bello e combattuto perché siamo 5-6 squadre tutti quanti a lottare per i play-off. E poi aspettiamo cosa farà il Saviano, noi siamo là, ci giochiamo tutte le partite senza nessuna pressione.